C'era una volta un pover'uomo che aveva quattro figli. Sono addolorato. Dovremmo organizzare lo stesso il funerale. Scusi, ma allora dov'è finita la liquidità? Gira e rigira quello che vi resta è questa proprietà. Che bastardo. A me quei soldi servono. La situazione patrimoniale non è quella che aspettavo. Sono i prezzi! I debiti si partono, bene? Quindi? Una battuta di caccia. Chi prende la prada più grossa si tiene tutto. Ma che ti vuoi far ammazzare? Ti devi sempre dichiarare! Hai capito? Sa che lei gli somiglia tanto... ...a suo padre. Grazie.